157 ponti, migliaia di chilometri di strade provinciali, a queste infrastrutture sono destinati 125 milioni di finanziamenti che arriveranno alla provincia di Salerno. Ormai la vita utile dei ponti realizzati nel dopoguerra è alla fine e quindi necessitano di interventi di messa in sicurezza per salvare vita umana e soprattutto per ottimizzare le risorse e quindi c'è un programma di 6-7 anni a venire che iniziamo già a programmare nelle prossime settimane che ci consentirà di avere strutture viari, infrastrutture, ponti, viadotti più sicuri. Una cifra enorme, 125 milioni di euro, ricaduta importante sul territorio ma soprattutto ricaduta sull'occupazione. Si ratterrà di iniziative e di interventi che cambieranno nella sostanza la vita della nostra provincia, aiutando le imprese a investire nel nostro territorio, rafforzando le presenze turistiche e aiutando i nostri cittadini a spostarsi nelle aree interne, riqualificando e recuperando strade, ponti, viadotti che da decenni aspettano interventi di rigenerazione e ristrutturazione. Mi piace ricordare oggi che le province assumono un ruolo sempre più importante del nostro Paese. Stiamo facendo un lavoro anche a livello nazionale perché nel prossimo testo unico sugli enti locali possa essere destinato a questo ente di nuovo il ruolo, l'importanza, le funzioni, le competenze che meritano, quale soggetto di coordinamento di tutti i comuni sul territorio e sarà importante il loro ruolo, la loro presenza anche e soprattutto nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alle infrastrutture sono rivolte più di 60 miliardi di euro, 34 miliardi al mezzogiorno. È necessario coinvolgere sempre più le province, gli enti locali, questo è un appello che lanciamo, nella cabina di regia per il monitoraggio dell'attuazione e soprattutto della spesa delle risorse nel mezzogiorno. Per cui oggi è una giornata importante, la provincia di Salerno un messaggio di efficienza e attivismo degli enti locali sui territori.